E' uscito Supersex, la serie biografica, sette puntate, su Netflix, con Alessandro Borghi che interpreta il grande Rocco Siffredi. Bene, quindi Alessandro Borghi è incredibile perché è proprio identico. Nella prima puntata, io ho visto le prime due puntate, si vede proprio le movenze, la somiglianza incredibile dall'espressione del viso, i movimenti del corpo, quel sorriso un po' così. Insomma, fantastico, grande Borghi, grandissimo, che ruba i panni, diciamo, ruba un po' i panni di Pierfrancesco Favino e fa tutte lui le biografie, può essere chiunque. Alessandro Borghi fa un grande, un ottimo Rocco Siffredi. Serie interessante perché vediamo il diatro le quinte della vita di Rocco Siffredi dalla nascita, praticamente dall'infanzia e poi, presumo, più avanti fino ai giorni nostri. Quindi serie interessante che ci svela qualcosa che, diciamo, non avevamo visto di Rocco fino adesso. perché, insomma, penso che sarà visto parecchio, ecco. Va bene, guardiamocela sta serie, va bene? Buona visione, ciao! Netflix Supersex, uscita oggi, ciao!